Ti ritroverai lontano Gli Unidos tornano con il nuovo videoclip come musica tratto dall'album Il Viaggio dei B Brothers che qualche giorno fa è stato pubblicato sul loro canale YouTube Gli artisti sardi si sono uniti ancora una volta con la voce e con il cuore in questa iniziativa In ricavato tramite la vendita del disco e dei gadget Andrà in beneficenza Saranno acquistati Smart TV per le stanze del reparto oncologico pediatrico di Sassari Come musica è l'essenza del ricordo del piccolo Luca De Palmas figlio di Tiziana e Gavino quest'ultimo artista degli Unidos Ad unirsi al progetto anche una delle voci più belle e intense della Sardegna la cantante Maria Giovanna Cherchi Durante la registrazione del brano tutti sono stati rapiti da un qualcosa di unico e meraviglioso Emozioni su emozioni che hanno reso questo pezzo qualcosa di unico